Guardate la bellezza, poi riuscite a toglierla da lì? Probabilmente sì, qui tutto lucica, abbiamo anche, ci siamo scritti anche una scheda particolare, loro fanno parte, sono qui come rappresentanza della comunità filippina, che si chiama Filippino Catholic Community di Brescia, e il brano che andremo a vedere, sul quale danzeranno, si intitola Sing Kill, detto bene? Sì, bravo, dicono che sia una famosa danza del popolo Maranao, del lago di Lanao, e deriva da una storia dell'antico Guayamaile Periquindiano in Ramajana, giusto? Guardate sì? Sì, è una danza non volare eseguita durante le feste e altri momenti di condivisione. che originariamente sono le donne regali, ballavano il Sing Kill per attirare potenziali pretendenti, quindi attenzione. I ballerini passano agilmente, poi lo vedremo, tra pali di bambù, eccoli lì, disposti in diverse maniere mentre tengono in mano una sciarpa, stanno un po' freddo con la sciarpa. Loro sono sei ballerini, li vedete, quattro donne e due uomini, provengono da gruppi cattolici filippini e fanno una danza che secondo gli usi e i costumi delle isole filippine serve per mostrare che anche se si trovano in una nazione diversa, loro mantengono comunque vive le loro tradizioni che li legano sempre. loro ci tengono moltissimo a mostrare a tutti noi questo. Cari amici, i nostri amici delle filippine danzano per noi. Un applauso! Vediamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.